Prosegue il tour nei ristoranti pavesi alla scoperta dei piatti rinascimentali e leonardeschi preparati in occasione della mostra Looking for Mona Lisa. Oggi siamo all'antica osteria del Previ, nel nostro borgo, una osteria di tradizione in via Milazzo e la signora Alba ci racconta i suoi piatti fatti appositamente per la nostra mostra di Leonardo. Prego. Allora qui abbiamo la trota in carpione che la usiamo noi come antipasto, oppure si può usare anche come secondo e è un sistema antico che usavano per mantenere il pesce, quindi la trota viene fritta in olio extravergine e poi coperta da un intingolo di acqua, aceto in proporzione, olio e verdure, sedano, carote, cipolle e spezie. Viene coperta e si mantiene, piace, piace molto. Quindi qui si mantiene per poco perché... Qui si mantiene per poco e che ne va tantissima. Poi abbiamo i cappellacci che sono i tipici ravioli dell'oltrepò, ripieni di carne di manzo e maiale vitello brasati conditi con burro e salvia. La pasta la facciamo noi, sono tutti piatti prodotti da noi. Poi abbiamo lo zabaione, lo zabaione classico con uova e passito. Noi usiamo il passito per fare lo zabaione. Viene servito con biscottini però oggi non ci sono. Bene, quindi un grazie all'Antica Osteria del Previ per aver partecipato a questa iniziativa e verremo sicuramente a degustare questi piatti di tradizione fatti appositamente per la mostra di Leonardo. Siamo in strada nuova, alla Osteria La Torre degli Aquila e lo chef Dimo ci racconta il suo piatto preparato in occasione appunto della nostra mostra di Leonardo. Buongiorno a tutti, ho pensato a una tagliatella, anzi pappardella a ragù di cinghiale pensando appunto a un piatto tipico toscano dove anche le origini di Leonardo arrivano e anche un piatto forse ben adatto alla mia Osteria dove ho adotto una cucina tradizionale. La pasta è fatta in casa da noi, il ragù è un classico ragù fatto con fondo di cipolla, sedano e carota non con pomodoro ma cotto nel vino rosso, praticamente come fosse un salmì. Spero che sia gradito a tutti gli ospiti che verranno a questa mostra e ringrazio. Allora alla Trattoria La Torre degli Aquila, un bel piatto di pappardella a ragù di cinghiale, profumatissimo, vi aspettiamo. Prosegue il nostro tour fra i ristoranti che hanno aderito con i loro piatti alla mostra di Leonardo. Adesso siamo al ristorante Lino in Piazza del Lino e Federico e Fabrizio, lo chef e il manager del ristorante, ci raccontano i loro piatti. Buongiorno, noi per onorare questa meravigliosa iniziativa sulla Mona Lisa su Leonardo abbiamo presentato un dessert a base di acqua di rose, abbiamo fatto praticamente una torta di mele all'interno della vaniglia della cannella, l'abbiamo colorata di rosso, visto il periodo natalizio e finiamo di fatti con questo sorbetto alla rosa. Mentre invece per andare ad onorare quelli che sono gli artisti facendo parte dei progetti abbiamo ricreato un estencil con le sembianze della Batlisa su una base di foie gras d'oca, cioccolato, melagrana e una salsa di barbabietola in maniera da poter dare non solo dolcezza, acidità e la giusta sapidità al piatto. Contorniamo il tutto con della raba bianca, chicchi di melagrana e come dicevo le stencil invece viene contornato da una polvere di barbabietola rossa.